ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi se vi piace questo video lasciatemi sotto nei commenti un cuore grazie in questo video effetterò un refill dove userò il foil effetto aurora a me personalmente piace molto questo effetto e ho deciso di condividerlo con voi come prima cosa rimuvo il gel vecchio dopo quale alzo le cuticole uso la lima per togliere l'eccesso del gel accorciare l'unghia e sistemare la forma sgrasso le unghie con cleaner uso la forbicina per tagliare le cuticole copro le unghie con primer copro le unghie con base gel preparo la foil effetto aurora tagliando i pezzettini in forma di scale copro la punta dell'unghia con base gel non lo polimerizzo in lampada sopra attacco le scale effetto aurora copro la parte alta dell'unghia con smoky cover della marca slovenca. Ho preso questo cover per testarlo, il colore è molto bello, unico difetto e che brucia tantissimo. Sistemo il cover e lo sfumo verso il basso. Copro la punta dell'unghia con gel trasparente. Con la fresa tolgo l'eccesso del gel dopo quale uso la lima per sistemare la forma. Tolgo l'eccesso del gel sotto l'unghia. Copro l'unghia con top coat sia sopra che sotto. Uso una punta più stretta per fare dei buchi nel gel dove attaccherò dei strass conici. Copro l'unghia con copro l'unghia. Copro l'unghia con copro l'unghia. Copro l'unghia con copro. Grazie a tutti.